Parla dalle colonne del quotidiano La Nazione, Tiziana Deserto, la donna accusata di concorso in omicidio e violenza sessuale nei confronti della figlia, Maria Geusa, morta a poco più di due anni nell'aprile del 2004 all'ospedale di Città di Castello, dove venne portata in condizioni gravissime. Oggi è una donna libera. Lo scorso 4 agosto ha finito di scontare i 15 anni di carcere a cui era stata condannata in sede di Cassazione. Il reale esecutore della violenza sessuale nei confronti della piccola Maria, con conseguente morte a seguito delle ferite subite, l'imprenditore Giorgio Giorni, con cui Tiziana aveva intessuto una relazione, sta scontando l'ergastolo. Al quotidiano La Nazione, Tiziana continua a dichiararsi innocente per quel crimine, concorso in omicidio e violenza sessuale per il quale è stata condannata. Ritiene di essere stata un capro espiatorio in una vicenda mediatica che riempì le pagine della stampa nazionale ITG. Voleva bene a sua figlia, dice, non le avrebbe mai fatto del male. Il suo errore? Essersi invaghita di Giorni, all'epoca dei fatti, datore di lavoro di suo marito, aver sperato che con lui avrebbe avuto un futuro migliore, essersi fidata di lui al punto da affidargli la sua stessa bambina con il compito di portarla all'asilo. Giorni all'asilo non la portò mai. Secondo la ricostruzione della procura, la seviziò e violentò fino a procurarle lesioni gravissime che ne causarono la morte. I progetti di Tiziana la portano ora lontano da città di Castello. Intende andare a Brindisi e lì, in una realtà più grande, ricominciare da capo, ricostruire una nuova vita, magari nel mondo del commercio. Oggi Tiziana ha 44 anni.